E' una brutta giornata oggi, c'è stato un incidente con dieci macchine qua fuori, prima. Noi adesso siamo dei movieri, dobbiamo solo sistemare le macchine in modo che vadano dentro i caselli in base a come pagano, tutto qua. All'uscita di 90 di Piave è stato il caos per buona parte della giornata, copione simile a nord-est in tutti i principali caselli della 4, a ridosso del litorale, dove al traffico da bollino nero dell'esodo ferragostano si è aggiunto un incidente che solo per miracolo non si è trasformato in strage. Una decina e mezzi coinvolti, dodici feriti, due quelli gravi. Il tamponamento tra Meolo e Sandonà ha portato alla chiusura del tratto verso Trieste per metà della mattinata, con uscita obbligatoria proprio a Meolo. Sul posto la mobilitazione di uomini e mezzi, con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere tre persone. I feriti, sia con ambulanza che elicottero, sono stati smistati tra Caffoncello di Treviso, all'Angelo di Mestre, città del Piave di Sandonà, con i soccorritori Polstrade e Personale di Autostrade Alto Adriati. Se l'emergenza è rientrata verso mezzogiorno, le ripercussioni no e chissà se questa coppia trevigiana è già arrivata a destinazione in Croazia. Abbiamo già messo due ore per arrivare qua, da Treviso a Cessalto, due ore circa, perché poi siamo entrati da un'altra parte, dove era Roncade, l'altra entrata, e c'era l'autostrada bloccata per un incidente. Non è tanto diverso degli altri anni, comunque speravo meglio. Assaltati gli autogrill, questo quello di Cessalto, soste obbligate per sfuggire alla calura. I volontari sono entrati in azione distribuendo bottigliette d'acqua alle pompe, lo scenario di sempre, con il carburante ben sopra i due euro. Code si sono formate non solo in entrata, ma anche in uscita dalle principali località balneari, con lo snodo di Bibione e Lignano-Latisana, che resta un budello, estate dopo estate. Un controesodo che comincia a essere un po' pesante, perché si è in ingresso da Bibione verso Venezia, abbiamo fatto 7-8 chilometri di coda, praticamente, per arrivare al casello. 5 chilometri in due ore. 35 chilometri in due ore. E adesso vediamo andando in là come va a finire, speriamo un po' meno, perché se no qua non arriviamo domani a casa. E poi c'è il nodo di sempre, quel tratto maledetto a due corsie che indigna e interroga. Sono anni che vengo in Croazia e a anni, non so quanti, che ci sono questi lavori. E non li finiscono, ma è possibile.